La stagione balneare apre finalmente le sue porte. Tanti lidi che facendo fede alle misure imposte dal governo riaprono i battenti per ospitare la clientela con le dovute precauzioni. Distanziamento sociale, dosatori di gel igienizzante e tante altre pratiche per garantire una serena estate ai bagnanti. Stiamo rispettando le misure 3,40x30, 10 metri quadri di circonferenza e poi fare distanze fra un ombrellone e l'altro. Quindi stiamo perdendo tantissimi posti, tantissimi ombrelloni e tantissime impostazioni. Noi per questa stagione balneare abbiamo adottato tutte le misure necessarie per il distanziamento degli ombrelloni nelle zone servizi come bagni, come bar, come reception. Abbiamo perso qualcosina calcolando il discorso che ogni ombrellone deve avere un nucleo familiare sotto, quindi sotto quell'aspetto abbiamo perso qualcosa. Abbiamo attivato tutta una serie di procedure per un controllo migliore perché quest'anno il passeggio degli esterni sulla zona demaniale non è consentito. Non è consentito l'ingresso dalla zona demaniale all'interno perché non c'è controllo e quindi quest'anno speriamo che vada tutto bene. Per quanto riguarda la questione abbonamenti, a che punto siete? Siamo a buon punto, abbiamo quasi raggiunto il massimo che possiamo, manca giusto qualche cosina che stiamo aspettando delle risposte. Come numero ci siamo, però andiamo a perdere. Avevamo gli ingressi giornalieri, dico un tot per 8, 7, 6 mila, quest'anno neanche uno. La campagna abbonamenti è andata bene, le paure all'inizio erano tante, fortunatamente abbiamo avuto un calo non preoccupante, è andata, non ci possiamo lamentare. Bisogna ripartire dunque e per farlo occorre ottimismo e tanta voglia di rimettersi in gioco nonostante il terribile periodo che ha arrecato danni al mondo del commercio e dell'economia in ogni sua sfaccettatura. Dobbiamo essere ottimisti, guai fosse il contrario, se no non si andrebbe da nessuna parte. Siamo ottimisti, assolutamente.